È l'APS Noi per la Salute di Nanselmi che dopo aver appreso dalla stampa della carenza di medici anestesisti e rianimatori dell'ASP di Caltanissetta, segnalata da una sigla sindacale proprio in riferimento agli ospedali di Gela e Caltanissetta, ha espresso preoccupazione. L'APS chiede alla direzione strategica quali saranno i provvedimenti che saranno attuati per fronteggiare la situazione, partendo dal fatto che riassumono così dopo aver appreso che all'ospedale Sant'Elia sono in servizio in terapia intensiva 17 medici, di cui un medico distaccato a Mussomeli più il primario invece dei 19 previsti e dicono i rappresentanti dell'associazione siamo a conoscenza che l'unità operativa semplice di anestesia è formata dai 3 medici invece dei 15 previsti e che 4 medici dal 1 gennaio saranno dimissionari perché hanno scelto di andare a prestare la loro opera in altro ospedale. Dicono inoltre siamo a conoscenza che nel 2023 altri due medici della terapia intensiva andranno in pensione per cui sarà ancora più rilevante la carenza di organico e aggiungono nella nota che a turno ogni giorno un medico del Sant'Elia si reca a Mussomeli per garantire la reperibilità H24 determinando l'ulteriore mancanza di un'unità medica nella dotazione della terapia intensiva. L'associazione dice inoltre di essere a conoscenza della gravissima carenza di organico del personale medico del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela ridotto a 6 unità più il primario. Così oltre a manifestare la loro solidarietà al personale medico che viene sottoposto a stress lavorativo esprimono anche la loro forte preoccupazione per la situazione in tema di diritto alla salute e garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Infatti la carenza di anestesisti e rianimatori determinerebbe spiegano la non possibilità di avvalersi al meglio delle sale operatorie e la non possibilità di operare nelle migliori condizioni di reparti come chirurgia generale, chirurgia vascolare, emodinamica, la gastroenterologia e lo stroke unit. Infine propongono che l'ASP si attivi per creare convenzioni con le altre ASP di dotazioni organiche più congrue chiedendo all'assessorato regionale della salute di coordinare l'applicazione di misure di emergenza per fronteggiare la situazione. Al momento nessuna replica arriva da parte dell'ASP.